Ciao a tutti, benvenuti nel primo podcast di Direzione Ostinata. Qualcuno di voi si chiederà, sì, ok, ma chi siete? Cos'è Direzione Ostinata? Direzione Ostinata è un collettivo fotografico composto da due fotografi professionisti, Chiara e io, che sono Raffaello. Vi anticipo, anticipo subito la domanda, ma perché Direzione Ostinata? Perché avete come logo un gatto? Cosa c'entra con la fotografia? Niente, effettivamente non c'entra proprio niente. Il nome nasce dalla passione per D'Andrè, che non è condivisa da me, ovviamente, perché non mi piace, e dalla passione per i gatti, in particolare perché nel precedente studio avevamo adottato un gatto di quartiere, che era praticamente sempre da noi. Quando abbiamo deciso di rifare il logo, quello precedente aveva proprio la classica forma, disegno del diaframma, eccetera, un po' stufato onestamente. Abbiamo pensato, ma cosa c'è comuna, cosa possiamo fare, eccetera, e abbiamo guardato il gatto, fa lui! Un gatto nero, e quindi abbiamo deciso di mettere questo gatto. Poi potrei anche raccontarvi la supercazzola, no? No, perché sai, i gatti in realtà hanno un'indole molto indipendente, ostinata, hanno una direzione chiara, ovvero quella di farsi servire da noi umani, ma sarebbero tutte balle. In realtà abbiamo deciso di fare qualcosa di diverso, che fosse molto più personale nel nome e nel logo, nel branding, come si direbbe, e meno legato all'aspetto proprio di contenuto. Un'altra domanda che potreste farvi è, ok, ma di cosa parla questo podcast? Allora, innanzitutto non parla di attrezzatura fotografica. Ce ne sono già diversi, fatti anche molto molto bene, e non è un argomento che ci piace. Parleremo di fotografia partendo dai concetti base, sia teorici ma anche pratici, come si usa una macchina fotografica, perché usare priorità di diaframma piuttosto che manuale, cos'è il bilanciamento del bianco, la modalità di messa a fuoco, quali sono, eccetera, 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 fino ad addentrarci in concetti più profondi, parlando quindi anche di generi fotografici, di fotografi specifici e così via. Quindi vuole essere proprio un percorso che parte dalle basi per arrivare a concetti un po' più ampi. Può essere utile come ripasso a chi ha iniziato a fotografare da poco, o a chi vuole iniziare a conoscere questo mondo della fotografia e a utilizzare la macchina fotografica. L'idea di accompagnarvi magari mentre state andando a lavoro, siete in palestra, state facendo una passeggiata, e spiegarvi tutte queste cose ci affascina tantissimo e ci piace veramente tanto. Quindi faremo del nostro meglio per far sì che questo avvenga in modo divertente, chiaro, semplice, alla portata di chiunque. Insomma, speriamo. Sarà un bel percorso e siamo veramente felici di farlo insieme a voi. Bene, dopo questa prima doverosa introduzione a questa serie di podcast, possiamo far partire la sigla e affrontare l'argomento di oggi. Siamo nel 1858 e siamo in Inghilterra. Siamo in età vittoriana e un fotografo, diremmo, che ha appena pubblicato un'immagine dal titolo Fading Away, il momento del trapasso, insomma, della morte. Questo fotografo è Henry Peach Robinson e la sua immagine rappresenta la ragazzina, una ragazzina di una famiglia ricca, borghese, che sta morendo in quel momento. ha creato un casino, uno scandalo con quell'immagine che non avete idea. E perché? Perché non era un quadro, non era una rappresentazione teatrale, almeno. Non pensavo non lo fosse, anzi erano convinto fosse una scena dal vero, no? Quindi l'immagine reale, il vero, il fotografato. E questo creò tanto scandalo, perché nessuno si era mai spinto a fotografare un momento così intimo. Lo scandalo fu tale che, ad un certo punto, il fotografo per placare un attimo gli animi, dovete dire, no, scostate un attimo, quella che vedete è una rappresentazione. Ci ho fotografato degli attori, tra cui questa ragazzina che è viva vegeta, sta benissimo, e quindi in realtà non era una scena reale. E qui la gente si incavolò ancora di più, ancora maggior scandalo. E allora ci ha ingannato, questo è un inganno. Perché allora, come purtroppo anche adesso, la fotografia è sinonimo di vero, di reale, no? Il vero fotografico, il reale. E questo concetto è importante da capire e da capire cosa possiamo considerare reale, vero e cosa magari no. E siccome qui guardate, fiorfiori di filosofi storici dell'arte, della fotografia, eccetera, hanno scritto e parlato, non è che ho intenzione di approfondire, perché va al di là delle mie possibilità e capacità anche di comprensione in alcuni casi. Quindi mi faccio aiutare dalla citazione di alcuni fotografi. Per esempio Edwin Smith che disse Una ostentazione di onestà è il più comune preludio a un atto di falsificazione. State pur certi che il primo a gridare che la macchina fotografica non può mentire ha già la matita da ritoccatore ben appuntita, nascosta dietro l'orecchio. Insomma, la appoggia piano, no? Come si dice. Oppure Edwin Steichen che, voglio dire, non è che fosse proprio un fotografo alle prime armi. Lui ebbe a dire che ogni fotografo è un falsario dall'inizio alla fine, essendo praticamente impossibile una fotografia puramente impersonale e non manipolata. E questo concetto, una fotografia puramente impersonale, quindi noi potremmo dire oggettiva, è un punto fondamentale da capire. Molti fotografi di reportage dissero che la fotografia non può essere un'oggettiva rappresentazione della realtà, non può essere un vero oggettivo, capito? Ma una rappresentazione, cioè un'idea di un'opinione. Quindi un fotografo non può essere oggettivo, può essere onesto. È un po' quando ci capitano dei lavori e dobbiamo fotografare degli eventi, no? Magari in questi eventi trovi una persona annoiata, una persona arrabbiata, una felice, una attenta. Secondo voi il cliente cosa ci chiede di rappresentare? Il successo, no? Che quell'evento è stato apprezzato. E di conseguenza tu non è che photoshoppi l'immagine, ma chiaramente la tua attenzione è rivolta a fotografare ciò che il cliente vuole comunicare. Ok? Quindi non è necessario photoshop e su photoshop, sul fotoritocco ci torneremo alla prossima puntata, ma non c'è bisogno di manipolare l'immagine. Il travisamento della realtà può avvenire molto a monte. Ma pensate anche, che ne so, un esempio che spesso si fa nella comunicazione. Andiamo in vacanza da qualche parte, al mare, ok? Con due amici o due amiche. Al ritorno descriviamo questa esperienza. Se io sono una persona visiva, cioè acquisisco le informazioni maggiormente con la vista, la mia descrizione di quella vacanza potrebbe essere, guardate, un mare azzurro, limpido, bellissimo, poi questa vegetazione verde, no? Bella rigogliosa. Capite? Sono termini visuali che hanno a che fare con la vista, azzurro, limpido, no? Verde. Una persona che magari è uditiva primariamente, quindi acquisisce primariamente le informazioni attraverso le orecchie, il suono, descrivendo quella stessa esperienza potrebbe farlo in questo modo, ha guardato una quiete, c'era un silenzio, si sentiva lo sciabordio dell'acqua, il rumore del vento attraverso le foglie, era bellissimo. Quindi capite? Tutti i termini che hanno a che fare con l'udito. Una persona cinestesica, che quindi acquisisce, elabora le informazioni attraverso gli altri sensi, quindi olfatto, tatto, gusto, userà questi sensi primariamente per relazionarsi con la realtà e descriverla. Quindi potrà dire, ma guardate, c'era un venticello che accarezzava la pelle, poi l'acqua né troppo fredda né troppo calda, no? Con questa sabbia fine, fine, fine. Capite? La stessa esperienza è stata vissuta e poi anche raccontata in maniera completamente diversa. Perché? Perché le tre persone sono diverse. Il loro modo di interpretare la realtà, di percepirla, di viverla, di raccontarla è diversa, no? E quindi spesso più si è bravi nel fotografare e non è che si diventa più oggettivi, ok? Ma più si racconta di se stessi. Più attraverso un'immagine noi raccontiamo qualcosa di noi stessi, della nostra opinione, del modo in cui noi vediamo il mondo. Questo è importantissimo da capire, no? Perché non esiste un tipo di fotografia che non sfugga, no? A questo meccanismo. E tenete conto che di fotografia ne esistono diversi tipi, cioè c'è diversi modi di vivere, no? Questo mezzo. Ci può essere appunto l'artisticità, quindi il creare un qualcosa di esteticamente bello. Ma la fotografia è anche una pratica sociale, ok? Quindi esula di per sé dal bello, ma magari vuole raccontare qualcosa di sé o di quello che vorrebbe, ok? Oppure è una merce. La fotografia è una merce che vende altra merce. Quindi io ti vendo un'immagine che poi ti aiuterà a vendere il tuo prodotto. Capite quindi come ci possono essere molte declinazioni diverse del modo in cui la fotografia si rapporta col vero, col reale e non lo fa mai in modo oggettivo, ma sempre con un fine narratorio, no? Personale. Bene, siamo arrivati alla fine di questa prima puntata di questo podcast di Direzione Ostinata. Spero vi sia piaciuta, che l'abbiate apprezzata. In caso affermativo vi chiedo di metterlo in 5 stelle e di condividerla con più persone possibili, così da poter crescere tutti insieme. Vi do appuntamento a settimana prossima con la puntata 2 dove parleremo della post-produzione. È giusto? È male? È bene? Sì? Cosa brutta? Cosa cattiva? Lo vedremo, lo vedremo insieme. Quindi un caro abbraccio, un caro saluto a tutti voi e a settimana prossima. Ciao! Questa prima introduzione è doverosa per spiegare un attimo, un attimo, sempre sto attimo, un attimo dappertutto, sempre, eh, un attimo. Vedeteci e quant'altro e poi questo finale lo rifaccio perché mi fa cagare.